Il giornalista può intendersi come la somma di tutto ciò che non è. Non è un romanziere, non è un sociologo, non è uno storico, non è un politico. La somma di tutte queste impossibilità o insufficienze costituisce in modo appropriato, anche se particolarmente enigmatico, quello che è. Così Miguel Angel Bastenier, uno dei più conosciuti giornalisti spagnoli, definiva l'essere giornalista, per esclusione spiegando quello che non si è per capire quello che siamo. Si ha la stessa difficoltà e definizione quando si cerca di teorizzare la scrittura giornalistica. Come si insegna questo mestiere? Bastenier diceva che il giornalismo non si insegna, ma di sicuro si apprende. Ed è quello che cercheremo di fare in questo corso. Come? con la pratica. Impareremo scrivendo, in un viaggio che ci farà attraversare cerchi concentrici in cui passeremo dalla breve l'unità minima ma essenziale di una notizia al reportage, imparando a osservare, a vedere le storie anche laddove apparentemente non ci sono e a raccontarne i luoghi e i protagonisti. Io sono Mariangela Paone e vi aspetto al nuovo corso della scuola Holden scrivere per informare dalla notizia al reportage.